Mio papà non sa che facciare, nel colleccio mettiamo il pello, dice che non pinto niente. Che non pinta niente. E' il mio ragazzo, il mio figlio che non pinta niente. Si vanno a interare lo del colleccio di dei coglioni. Fanno impegnare, voglio fare questa, va come ho colpito. Va come ho colpito. E se non si sono convenciuto, non ti preoccupare, chissà che il telefono le mettono a chiamato e dico aspetta un momentino. E' il mio figlio che invece sto ai che te voy a machacare. E quando vi colgo, e sacco la forza, e enfoco la luce, la cosa se marcha. E sacco il glue, che lo americano, le chiamano il glue. Io non ho altro pegamento, ma in italiano, le chiamiamo il pegamento. E le piaccio la bocca. E le gluovo la morsa. E non fa la migliore. Perché vuol toccare. E le chiamano la noreccia. E le chiamano le sorecchie. E le chiamano le mancini. 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 E poi ci avremo la battaglia di niente. Di nuovo. E quando avremo la bocca, di nuovo. Non necessitiamo tutto questo. Sacchiamolo una bocca insieme. E lo che dico? E le chiamano le mancini. E devi vedere il luce. E por Heute? E devi vedere lo ... E quando avremo una c** pixels, te lo chiamano, E ripetendo le mancini. E Humanidio ripetendo la lengua, e dopo corriamo a una botella, detto a dei vini, se lo mettermo e da poco la botella dei vini con la lingua del padre, del nini, che ha posato, che ha insultato, al mio figlio, al collegio, perché io non mando compromi, non mando compromi, che se mi tocca il figlio, mi tocca il colione, capisce, capisce. Allorene, allorene. Grazie, papà.